Ciao, siamo qui oggi per conoscere il nuovo servizio di videomaking offerto dal localino a Morvegno. Andiamo dentro a dare un'occhiata. Eccoci qua, passiamo in rassegna a quelle che sono le attrezzature, iniziando dal cavalletto. Abbiamo un cavalletto della Manfrotto, è molto stabile, altezza, siamo sul metro 80, ha una testa video molto fluida che permette sia di fare movimenti con la camera sia anche per la macchina fotografica. Tutte le cose che diciamo sono sia per la macchina fotografica, per le videocamere ovviamente. E una particolarità di questo cavalletto è la possibilità di poter metterla in verticale e quindi se bisogna fare dei lavori particolari sul tavolo si riesce a fare delle fotografie anche dall'alto verso il basso. Poi abbiamo uno slider che è un carrello di 60 cm che permette di, mettendoci sopra la videocamera, di fare dei movimenti fluidi, quindi anche quello ha un bel effetto. E per quanto riguarda le altre attrezzature, apriamo la scatola delle meraviglie. Abbiamo un microfono a condensatore, che è quello che stiamo usando per la realizzazione di questo video, che dopo vi faccio vedere. E' molto buono per le riprese, gli ambienti chiusi, o comunque per dare un po' più di audio alla reflex che non ha un audio interno così buono. Poi questa qua è una videocamerina portatile, che noi diamo la possibilità di noleggio soprattutto a chi non è esperto e quindi non ha una grande praticità con le reflex. E' molto leggera, molto pratica, ma ovviamente fa una qualità video minore della reflex. Adesso vi faccio vedere anche la reflex, ho acceso qui, mentre questo qua è la reflex che sta usando Simone per la realizzazione del video. Questo qua sopra è il microfono a condensatore che vi dicevo. Sopra c'è montato un obiettivo che è un 55-18. e niente, per chi non è esperto nella reflex, è una macchina video-foto, touch screen, che fa video in full HD, a 25 frame, HD ready, a 60 frame al secondo. Grazie anche a Magic Lantern, che è installato, si possono fare i timelapse e un sacco di altre opzioni. Oltre al 18-55 come obiettivo c'è il 55-250, quindi per gli amanti delle foto sicuramente sarà molto utile, ma anche nei video se bisogna fare qualcosa di un po' lontano. Direi che qui basta, abbiamo finito. Possiamo andare di là e vedere così la sala video, che è l'ultima parte del video lab del localino. Eccoci qua, questa è la sala montaggio, che è anche la sala dove c'è Channel Morbegno, la web radio. Come montaggio utilizziamo Pinnacore, comprato, quindi tutto legale e in regola, che permette a tutti, gratuitamente, di poter finire i propri video, di venire qua, smanettarci sopra, a imparare se si ha un po' di conoscenza pratica, se no c'è anche qualcuno che può darci una mano. L'attrezzatura del localino può essere noleggiata da chiunque, a prezzi irrisori, molto vantaggiosi. Per conoscerlo potete cliccare qui, basta andare sul sito www.localino.it nella sezione della sala video, oppure passare al localino quando è aperto, durante tutta la settimana, o anche sulla pagina Facebook. Io vi saluto e vi ringrazio. Ciao!